Sostanzialmente abbiamo due notizie importanti, molto importanti, che a quanto pare, anche a sto giro, le telefinzioni hanno deciso di oscurare. O perlomeno se ne parla da altri punti di vista. Proviamo a capire di che cosa si tratta all'interno di questo video. Tutti questi paesi, Arabia Saudita, Turchia ed Egitto, hanno mostrato il loro interesse ad entrare a far parte dei BRICS e si stanno preparando a fare domanda per l'adesione. Credo che questo sia un buon passo, perché l'espansione è sempre considerata favorevole, sicuramente rafforzerà l'influenza globale dei BRICS. Lo ha detto al quotidiano russo Izvestia, il presidente dei BRICS International Forum, Purnima Anand. Ora ti starai chiedendo dove sta la notizia. All'interno di questo canale, e anche e soprattutto all'interno del canale Telegram, a cui ti invito ad iscriverti, in basso in descrizione trovi il link, abbiamo detto che, dato che l'Arabia Saudita rappresenta il secondo, si legge, paese al mondo dopo il Venezuela per riserve di greggio o di petrolio, che qualsiasi azione dell'Arabia Saudita all'interno di questa partita internazionale sarà fondamentale per il futuro del benessere, della tranquillità anche di noi occidentali e europei. Di fatto l'apertura da parte dei BRICS del nuovo ordine multipolare che si sta venendo a creare sotto i nostri occhi e che rappresenta il 40% della popolazione mondiale e un quarto del PIL mondiale, nel caso si aggiungano Arabia Saudita, Turchia ed Egitto, potrebbero di fatto aprire una nuova era dello sviluppo globale, una nuova era dei poteri internazionali, finanziari e monetari. E invece nelle telefinzioni e sui giornali si parla dell'incontro tra Biden e il principe dell'Arabia Saudita, più che altro per il caso Khashoggi, il giornalista, insomma, che sapete, è ammazzato e brava. Si legge da destra e manca, anza, Biden molto chiaro sul caso Khashoggi con Bin Salman. Caso Khashoggi, Biden smentisce la versione del ministero saudito. Insomma, balletti farse ovunque, teatrini e sceneggiate di ogni tipo. Qua in realtà sembra che Biden se ne sia tornato a casa con questa nuova informazione, che evidentemente noi sapremo ufficialmente tra qualche giorno, chi lo sa. Un altro evento molto importante è invece l'altissima tensione, che torna a essere veramente elevata tra Cina e Stati Uniti, con l'esercito popolare di liberazione cinese, che chiede, testualmente vi leggo, che gli Stati Uniti ritirino immediatamente il suddetto piano di vendita e interrompano tutte le vendite di armi a Taiwan, si legge nel comunicato, in cui si sottolinea che il futuro, la sicurezza, gli interessi e il benessere di Taiwan non possono essere comprati e che le autorità di Taiwan, facendo affidamento agli Stati Uniti, berranno solo veleno per placare la loro sete. Ripeto ancora, l'esercito popolare di liberazione cinese conclude poi con questa nota, che adotterà tutte le misure necessarie per difendere fermamente la sovranità nazionale e l'integrità territoriale contrastare risolutamente qualsiasi forma di interferenza esterna e tentativi separatisti di indipendenza di Taiwan. Questi sono i temi di cui si dovrebbe discutere in questi giorni. Ovviamente dopo aver dedicato, se si tratta di un telegiornale, di un 15 minuti del perché Draghi deve rimanere in sella, ovviamente dopo aver dedicato 4, 5, 6, 7, 10 pagine di giornale finanziario, o meno che sia, sul fatto che Draghi, insomma, deve rimanere in sella. Perché effettivamente con Draghi in sella la situazione per gli italiani cambia, è una garanzia, è una sicurezza. Senza Draghi il paese fallisce sicuro, con Draghi fallisce lo stesso. Perché il punto è che non avete capito che sto paese è già fallito. Si tratta di capire come comunicarlo, come arrivare alla fine della storia. Ma va bene lo stesso. A quanto pare, il fatto che Draghi debba andare avanti, questo non lo so, vedremo quello che accadrà, il giorno più importante della storia del mondo è domani, come sapete, è risaputo, quindi il mondo trepidamente sta attendendo, chiaramente anche noi attendiamo l'esito di quello che accadrà, però vi ricordo sommessamente che, a meno che le mie previsioni, che alla fine non si va a votare nel 2023, siano giuste, vi ricordo che stanno facendo tutta sta roba qui per i prossimi sette, otto mesi, nove, cioè si andrà a votare a breve, cioè nel 2023, no? Perché appunto si andrà a votare, no? O no? Ma vediamo, vediamo, adesso vediamo, vediamo, è inutile fare previsioni, perché ormai siamo tutti lì, lì concentrati, e invece bisognerebbe parlare di queste cose qui. Ma di queste cose qui cosa vuoi che interessi? Fin dei conti da sta roba qui passa il futuro, la sicurezza, gli interessi e il benessere del nostro paese, mentre da quelle cose lì, parlo di draghi o non draghi, passa il futuro, la sicurezza, gli interessi e il benessere delle corporation già esistenti e dello status quo che giustamente va conservato anche di ognuno di noi. Mi pare giusto. Grazie a tutti.